I nuovi ingressi al Grande Fratello Vip 6 stanno indubbiamente generando altre interessanti dinamiche. Mentre Biagio D'Anelli si è subito avvicinato a Miriana Trevisan, Alessandro Basciano si sta dando da fare con Soleil Sorge. Iniziando dai primi due, nelle ultime ore, hanno trascorso momenti intimi. Sebbene ci siano stati sguardi e diffusioni, sono riusciti comunque a trattenere la passione e a resistere alla tentazione di baciarsi. Infatti, nella casa di Cinecittà Miriana e Biagio sono ormai a un passo dal bacio. I due concorrenti stanno dimostrando di avere una certa complicità ed Anelli li ha confermato a Manila Nazzaro di sentirsi particolarmente attratto dalla Trevisan. Lui stesso ha sottolineato di sentire il desiderio di baciarla. Nella serata di ieri, a partati in giardino, il bacio tanto atteso non è arrivato, ma pare che presto accadrà qualcosa. Bisogna tenere conto del fatto che Biagio è abbastanza combattuto, in quanto fuori dalla casa di Cinecittà ha una fidanzata da attenderlo. Per tale motivo, aveva pensato di mettere le distanze con Miriana, senza però riuscire nel suo intento. Nel frattempo, tra i loro coinquilini c'è qualcuno che ha le idee abbastanza chiare su ciò che sta accadendo. Giacomo Urtis ha chiaramente rivelato di non credere minimamente all'interesse che Biagio assicura di nutrire nei confronti della showgirl. Intanto, a far parlare ci pensano anche Soleil e Alessandro Basciano. L'ingresso dell'ex corteggiatore di uomini e donne ha rimescolato le carte in tavola. Si è dichiarato molto interessato alla sorge a Sofico Degoni. Al momento, si è avvicinato in modo particolare alla sorge, che fino a qualche ora fa soffriva per quanto accaduto con Alex Belli. Questa notte, Soleil e Basciano al GF e VIP6 hanno dormito avvinghiati e questo non è di certo passato inosservato agli occhi attenti dei telespettatori. Sul web sono diversi i video e le immagini che ritraggono i due GFini abbracciati mentre dormono. Sembra però, che da parte della sorge questo è accaduto in modo incoscio. Infatti, il pubblico che stava seguendo in quel momento la diretta ha notato che la discussa concorrente ha chiesto ad Alessandro come mai fossero avvinghiati in quel modo. Così, ha fatto capire di non essersi resa conto di ciò che stava accadendo stanotte. Dopo il mancato lieto fine con Belli, i fan di Soleil sognano una love story con Basciano. E non resta dunque che attendere per scoprire come si evolveranno queste dinamiche amorose all'interno della casa più spiata d'Italia.